Con Marcello Disetti alla prima prova del campionato regionale WISP in quel di Odolo e come vediamo grande parata di moto nel team Disetti Moto e parecchi sport puoi dire quali sono le vostre ambizioni per questo stagione 2013 il primo anno sono contento perché da oggi sono quasi tanti ragazzi due o sei che puntano anche le condizioni diverse di categoria e oltre a questo qua siamo contenti che è venuta una bella giornata per la fine dell'acqua che è venuta in questo periodo però siamo fortemente una bella giornata e più altri sono tanti io come risultato ho appunto la vittoria agli agonisti mix 2 e vediamo dai un po' anche nei piloti come si comportano cerco di seguirmi un po' e voglio una mano loro, qual consiglio e dopo sta a loro non sono in forma perché gli allenamenti ne ho fatti solo ieri ho ripreso un po' andare però la settimana scorsa però non posso guidare ancora diciamo al 100% per un problema al piede però diciamo posso stare sulla moto però non ho ancora fiducia bene perché il piede mi fa male, ho anticipato tutti i tempi di guarigione diciamo togliendo i vari ripari così però è ancora un po' dievole però diciamo sono un 70% però la gara non è lunghissima quindi posso adesso di puntare alla vittoria vediamo perché ogni gara è una gara a seconda quindi sarà battaglia già dopo le qualifiche hai un ottimo tempo anche tra macchino ci sembra che abbia girato molto bene quindi sarà un duello fra voi due? penso proprio di sì, anche lui è girato forte dopo visto che noi due con la moto piccola e con il 250 abbiamo girato più forte che gli altri con la 450 quindi diciamo anche lui è andato molto bene penso che con Centrometta penso che la lotta sia tra noi due avvenendo un po' anche i tempi così penso che saremo noi due a dare battaglia oggi bene allora in bocca al lupo a te e a tutto il timcello sì esatto in bocca al lupo anche a te perché tocca anche a te oggi sì esatto in bocca al lupo anche a te